Mario Monti si è dimesso. Il Premier si è recato al Quirinale poco dopo le 19 e ha comunicato al Presidente Giorgio Napolitano la fine del suo governo. In precedenza aveva annunciato la decisione al Consiglio dei Ministri nella sua ultima riunione. Le dimissioni sono arrivate dopo che nel pomeriggio la Camera aveva approvato in via definitiva la legge di stabilità e il bilancio dello Stato, ultimi atti della legislatura. Monti potrebbe chiarire domenica mattina nella conferenza stampa di fine anno se sarà disponibile a guidare eventualmente il prossimo esecutivo dopo le elezioni di febbraio.